In futuro guarderemo film con attori immortali? Si dice che il cinema renda immortali, ma da qualche tempo la cosa sta diventando terribilmente letterale. Bruce Willis, pur essendosi ritirato dalle scene per problemi fisici, continua ad apparire in alcune pubblicità che non ha mai girato, mentre Harrison Ford, 80 anni compiuti, è tornato ragazzino nell'ultimo trailer di Indiana Jones. Ma cosa ci aspetta nel futuro? Vedremo film con attori morti da anni, magari eternamente giovani cristallizzati in quell'età economicamente più remunerativa per il botteghino cinematografico. Siamo nel 2013 e al cinema esce il film The Congress, un drama sci-fi liberamente ispirato al libro del 1971 The Futurological Congress, scritto da Stanislav Lem. Staccandosi dal romanzo, il regista Ari Folman aggiunge alcuni elementi narrativi, tra cui quello della protagonista, Robin Wright. Attrice in declino, con una sindrome genetica che sta distruggendo il suo fisico, Robin riceve una proposta molto interessante. Vendere la propria immagine digitale e il suo personaggio a una casa di produzione, che ne avrebbe avuto i diritti esclusivi ad libitum. In cambio, Robin avrebbe ricevuto un sacco di soldi, ma di fatto sarebbe dovuta sparire dalla faccia della terra, in quanto anche la sua immagine pubblica, quella delle interviste o delle apparizioni televisive, sarebbe stata completamente digitale e controllata dalla major cinematografica. L'argomento al tempo fece molto scalpore, la CGI cominciava a diventare sempre più sofisticata, e già da qualche tempo attori deceduti erano apparsi in ambito pubblicitario. Un esempio è quello di Bruce Lee, riportato in vita dall'agenzia BBH, per Johnny Walker. L'attore, a stemio in vita, diventa protagonista, completamente digitalizzato, di uno spot del famoso whisky. Nel 2012 il rapper Tupac, assassinato nel 1996, ha potuto esibirsi su un palco, quello del Coachella, che non esisteva quando il musicista era ancora in vita. Ma la lista non finisce qui. Mohamed Ali ha ceduto i suoi diritti nel 2006, Grace Kelly e Audrey Hepburn le abbiamo già viste in alcune pubblicità, come anche Peter Cushion e Carrie Fisher, quest'ultima nei panni della principessa Leila, entrambi riesumati nella saga di Star Wars. In altri casi la digitalizzazione serve solo per fini di età, per ingiovanire personaggi che non potrebbero più interpretarli, altrimenti. Succederà in Indiana Jones, è successo in Terminator, Iron Man, Blade Runner 2049, e succederà sempre più spesso, con una nuova tecnologia che Disney sta sviluppando per i suoi film. Un'anomalia non tecnologica rimane quella di Jim Carrey, che durante le riprese di Man on the Moon mise in atto una sorta di transfert, trasformandosi letteralmente nel protagonista della pellicola, Andy Kaufman, senza alcun effetto speciale. La sua metamorfosi fu così incredibile che la figlia del defunto comico, una volta visto il simulacro di suo padre vivere nel corpo di Carrey, si confidò con lui, come racconta nel documentario Jim and Andy. Per lei suo padre era tornato in vita, anche se per poco, e voleva approfittare di quel momento per parlarci, dirgli quello che avrebbe voluto, ma che non era mai riuscito a fare. Ma che ne pensano gli attori? Chris Evans, il Capitano America, ha detto che per lui l'idea di vedere un nuovo Picasso, generato da un computer, o una nuova canzone di John Lennon, mai scritta dal defunto cantante, sarebbe un qualcosa di disgustoso. Per questo, alcuni di loro cercano di tutelarsi al riguardo. Robin Williams, ad esempio, ha firmato, prima di morire, un contratto che non permette l'utilizzo della sua immagine fino al 2039. Ma la domanda rimane, è giusto riportare in vita un attore o un personaggio, utilizzando la sua immagine per finalità che magari lui stesso non avrebbe mai accettato? E qual è l'impatto psicologico che questo tipo di operazioni lasciano su parenti o familiari? E in termini di puro intrattenimento? Ha senso anch'ilosare lo star system, mettendo in concorrenza nuovi e vecchi attori, di fatto lasciandoci in un eterno sogno lucido dove le nostre star preferite del passato ci accompagnano come esseri immortali fino a quando saremo noi a lasciare questo mondo? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!